buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi giorno della pubblicazione degli esiti della mobilità docenti 2023 2024 la rubrica tratterà proprio l'argomento della mobilità della conciliazione e del salvagente delle assegnazioni provvisore per chi o non ha avuto la mobilità o diciamo chiede una migliore sistemazione provvisoria per l'anno scolastico 2023 2024 allora domanda numero uno cosa fare in caso di un evidente errore nei bollettini ufficiali della mobilità provinciale oppure interprovinciale a chi fare reclamo per eventuale rettifica allora se si riscontrasse un errore nei bollettini ufficiali della mobilità cosa che è probabile anche rara però perché diciamo il sistema informatizzato è abbastanza preciso bisogna fare immediatamente reclamo all'ufficio scolastico della provincia di titolarità in buona sostanza se il trasferimento o il passaggio di ruolo cattedra e provinciale il reclamo per una specifica rettifica va indirizzato all'ufficio scolastico della provincia in cui si è titolari che ha trattato la mobilità di prima fase di seconda fase prima fase all'interno dello stesso comune seconda fase fra comuni diversi ma della stessa provincia se invece il trasferimento è interprovinciale dunque parliamo di terza fase il reclamo va presentato nell'ufficio scolastico della provincia di partenza cioè dove si è preso dove si è attualmente ancora titolari fino al 31 agosto se la rettifica non viene fatta immediatamente si può chiedere la conciliazione entro 15 giorni dall'esito della mobilità e di seguito anche l'arbitrato come previsto dagli articoli 135 136 137 e 138 del contratto collettivo nazionale lavoro scuola quello del 2007 in particolare domanda numero 2 i docenti nei rassunti in ruolo nell'anno scolastico 22 23 potranno fare la domanda di assegnazione provvisoria sì anche se ancora dobbiamo attendere l'ufficialità scritta nel prossimo ccni utilizzazioni possiamo rassicurare che esiste l'intenzione da parte dell'amministrazione di consentire 200 entrati in ruolo a partire dall 1 settembre 2022 ma con contratto a tempo indeterminato per cui quelli prevalentemente da gae o da concorso ordinario perché potranno fare la domanda per partecipare alle assegnazioni provvisore per l'anno scolastico 23 24 purtroppo c'è da dire che nonostante le richieste sindacali l'amministrazione tiene almeno fino ad ora bloccati i docenti entrati in ruolo l'uno settembre 2022 ma con un contratto a tempo determinato tanto per intenderci gps prima fascia sostegno e i docenti entrati in ruolo attraverso il concorso straordinario bis ultima domanda quando sarà possibile fare la l'istanza di assegnazione provvisoria il periodo previsto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria andrà dall'ultima decade del mese di giugno alla prima settimana del mese di luglio speriamo che le risposte a queste domande siano utili ai nostri telespettatori seguiteci sui nostri canali social facebook youtube sul nostro sito sul nostro portale www.tecni.scuola.it perché parleremo di mobilità di assegnazioni provvisori di utilizzazioni proprio in questo periodo che diciamo il periodo caldo per questi argomenti arrivederci alla prossima